Per quanto riguarda l'agosto il bilancio possiamo dire positivo? Il bilancio è molto 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 positivo, naturalmente gli ultimi numeri che sono usciti lo confermano, io penso che anche le altre settimane di agosto e la prima di settembre possano confermare l'estate magnifica che abbiamo avuto. Poi naturalmente i conti degli albergatori sono un'altra cosa perché abbiamo a che fare con gli aumenti energetici, ma intanto ci teniamo buono questo ottimo dato di arrivi e presenze per la Liguria. I dati possiamo dire che sono superiori al periodo prepandemico? Sono superiori al periodo prepandemico, ho tenuto anche conto di un ulteriore aspetto che è quello della mancanza dei russi, che comunque agosto erano sempre molti e abbiamo avuto un aumento di altri turisti stranieri provenienti dai Stati Uniti e da altri paesi esteri che ad agosto tendenzialmente non venivano in Italia, quindi direi buona la tendenza e buono il risultato. Grazie.